Ciao, come usare il potere dell'ipnosi conversazionale nella seduzione? Che cos'è l'ipnosi conversazionale? Beh, intanto dobbiamo dire che l'ipnosi è uno stato di coscienza naturale, cioè connaturato negli esseri umani, uno stato di coscienza che ogni essere umano può raggiungere e lo può raggiungere, diciamo, in modo naturale, con delle semplici tecniche, che si chiamano tecniche induttive. È ovvio che, diciamo, in essenza è uno stato in cui la persona è in contatto con la sua parte emotiva e è una forma di comunicazione perché noi possiamo comunicare con la parte emotiva dell'altra persona, non tanto con la parte logica. La parte logica è quella parte che mette le difese, quella parte che mette gli ostacoli, mentre la parte emotiva è quella parte inconsapevole, inconscia, è quella parte per la quale tutto è possibile, quella parte che se il messaggio arriva lì ha probabilità di attecchire, perché non viene filtrato dalla logica, dalla razionalità. E quindi si utilizzano delle tecniche palesi, dove si induce un rilassamento alla persona, eccetera, si mette la persona in piedi, sdraiata, seduta, e si effettua l'induzione verbale, non verbale, tensionale, analogica, simbolica. Ci sono diverse tecniche, però non sono applicabili, diciamo così, nella seduzione, perché non è che puoi dire a una persona, e adesso stai lì, fermo, guardami, osserva il pendolino, piuttosto che osserva i movimenti della mia mano, perché se uno è pronto per fare l'esperimento va bene, ma altrimenti non funziona, altrimenti la persona mette subito in atto i meccanismi di difesa. Quindi bisogna usare l'ipnosi conversazionale. L'ipnosi conversazionale è la capacità di mandare dei messaggi alla parte emotiva della persona, senza che la parte logica sgami, senza che la parte logica se ne renda conto. E allora si utilizzano delle strutture linguistiche verbali e degli atti di comunicazione non verbali che hanno proprio questa funzione. Un classico esempio è quello di far rievocare alla persona un'emozione, una sensazione, attraverso la parola. Perché se io ti chiedo, ma ti ricordi quando è che ti sei innamorata follemente di un uomo, magari guardandolo negli occhi e hai provato un'intensa sensazione d'amore, una volta che hai perso la testa, che sensazioni provavi? Se tu dici una cosa del genere a una persona, questa deve parzialmente rivivere questa situazione. Se io ti dico, o se tu prova a pensare a un gatto che rincorra un topo, ti viene subito un'immagine di un gatto che rincorra un topo. E questa immagine è subliminale spesso, cioè non te ne rendi conto. Se ci pensi, la puoi osservare nella tua testa. E così l'obiettivo qual è? Beh, in questo caso ad esempio la persona rievoca questo ricordo, quindi rivive questa emozione in modo consapevole. Tu gli elancori toccandola su una spalla, oppure facendo un certo gesto particolare. E cosa vuol dire? Che a livello emotivo associerà questo gesto particolare a quell'emozione, a quella sensazione. E poi in un secondo momento, magari quando sei in discoteca, così dopo che hai fatto il primo ancoraggio, o al bar, o a cena, senza più parlare, diciamo così, dell'innamoramento, tu farai questo gesto mentre le dirai piacerebbe tanto una volta passare un weekend con te. Ecco che lei ascolta in piacerebbe tanto passare un weekend con te e tenderà a provare quella sensazione di innamoramento che inevitabilmente associerà a te, per cui li verrà spontaneo dire di sì. E' ovvio che, ripeto, questo si va a innestare su un terreno fertile, quando hai già comunque, cioè non devi essere palesemente rifiutato da quella persona, non è che attraverso queste tecniche, se tu prima gli facevi schifo, dopo ti ama. Però aiutano molto, contribuiscono molto a creare nuove situazioni, a creare potenziale, per cui spesso attraverso queste tecniche si può trasformare un rifiuto in un consenso. Se non era un rifiuto totale, ma insomma eri vicino quasi ad avere il consenso, in questo modo scollini, diciamo così, e riesci ad avere il consenso. Questa è una delle tante tecniche di ipnosi conversazionale, ce ne sono moltissime, e messe assieme creano anche una struttura tale per cui diventa molto più facile coinvolgere, sedurre, persuadere, ci sono i comandi incastrati, le domande incastrate, sono tutta una serie di strategie, le ambiguità fonologiche, sintattiche, che poi magari esploreremo in altri video. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like e condividerlo con i tuoi amici. Ciao!